Eravamo contenti fino a prima della partita per la salvezza, ma oggi è una partita a cui tenivamo moltissimo. Eravamo molto concentrati su quello che dovevamo fare, ma purtroppo anche dando tutto non siamo riusciti a portare da casa neanche un pareggio. Ci dispiace moltissimo, siamo arrabbiati con noi stessi, potevamo fare qualcosa in più probabilmente, anche se la partita sembrava comunque indirizzata su un pareggio. L'avevamo ripresa col gol di Manolo, è un peccato, siamo dispiaciuti, armarecati, è una sconfitta che non va giù. Personalmente sono soddisfatto, io piano piano nella stagione ho acquisito fiducia, sicurezza. Poi ho sempre pensato che un giocatore per poter mostrare le proprie qualità deve giocare almeno tre o quattro partite di fila. Perché giocando una volta di tanto non è facile, non hai ritmo, non hai fiducia, mentre poi quando giochi tre o quattro partite nel giro in poco tempo riesci ad acquisire tutto questo. Ho avuto la fortuna e anche la bravura di riuscire a fare queste partite importanti comunque. Sono contento di come ho affrontato questa parte di stagione, anche se posso fare sicuramente meglio.